Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata, Nadana Friedrichson, giornalista russa di Svezda TV, buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani, buonasera Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano e buonasera Andrea Gilli, senior researcher al NATO Defense College, allora giorno 62 della guerra in Ucraina e sembra essere il giorno dell'escalation sia verbale che sul fronte degli armamenti, ma stiamo davvero correndo il rischio di un allargamento del conflitto, subito dopo la pubblicità. Dottor Gilli, allora oggi il governo britannico ha definito la promessa un'escalation di un'escalation legittimo che l'Ucraina colpisca obiettivi in territorio russo con armi occidentali. E naturalmente Mosca ha replicato subito dicendosi pronta a raid di rappresaglia contro paesi della Nato, quindi in teoria anche il nostro. Stiamo andando verso un inevitabile allargamento del conflitto? La situazione è di scuro molto seria, però secondo me va chiarito che queste minacce da parte della Russia sono vecchie, almeno di 15 anni e di sicuro già addirittura dall'inizio del conflitto, perché ricordiamoci che alla vigilia della guerra la Russia minacciava di usare armi nucleari contro le sanzioni economiche, per capire. Quindi ovvio che la Russia sta avendo delle difficoltà dovute a questa campagna abbastanza fallimentare, c'è un bisogno di chiudere il prima possibile questa campagna che anche nel Donbass, nella nuova offensiva, non sta per nulla portando a casa di risultati importanti e come sappiamo il 9 maggio è un po' la data termine e quindi è possibile che la Russia voglia cercare con le parole, in inglese si dice talk is cheap, quindi con le parole di alzare la tensione per cercare dove è possibile di limitare lo sforzo occidentale in supporto dell'Ucraina. Nadana Friedrichson, ti interpello perché tu ci puoi raccontare la versione di Mosca, la versione della Russia, quando il dottor Gilli dice che non è la prima volta che la Russia lancia delle minacce anche molto gravi e che la campagna in Ucraina è fallimentare. Che cosa replichi? Prima di tutto sono sorpresa dal fatto che il vostro ospite non ha commentato ciò che aveva detto il vice ministro della Britannia, della Gran Bretagna, che ha detto che vanno fatti questi colpi sul territorio. Per quanto riguarda la dichiarazione di Maria Zakharova, non fu una minaccia. lei fa una domanda rispondendo alla ritorica del genere. Io la citerò. Giustissimo il fatto che noi capiamo che per violare la logistica delle forniture militari la Russia può fare re di rappresentare sul territorio dei paesi nati che forniscono le armi al regime Kiev. Questa fu una risposta alla minaccia che abbiamo sentito da parte del vice ministro britannico. Io vorrei capire del perché voi non commentate questa parte per quanto riguarda le minacce da parte della Russia negli ultimi 15 anni, da quello che spero di aver sentito giusto. Mi potete fare degli esempi di queste minacce negli ultimi 15 anni? A chi la Russia minacceva 15 anni fa? Nel 2010 aveva fatto mai le minacce del 2012? La Russia per tutto questo tempo, da questo punto di vista, era in difesa. Noi abbiamo sempre chiesto ai paesi nati del perché vi state avvicinati alle nostre frontiere. Abbiamo posto le domande all'Aleanza. Del perché mandate sempre più armi. Non capiamo del perché lo fate. Quindi i training militari che la Russia aveva fatto, l'aveva fatto solo sul territorio proprio. Quindi questo è il diritto sovrano del paese di fare queste azioni militari. La geografia fu abbastanza larga, tutto vicino alle nostre frontiere. Un attimo solo perché voglio far dare una replica rapida al dottor Gilli che sorrideva. Ma sì, la Russia viola lo spazio aereo dei paesi baltici dal 2007. Ha lanciato minacce, si chiama cyber rattling in inglese, minacce nucleari velate contro almeno la Danimarca, la Polonia, la Svezia, che la Svezia sappiamo non è parte della Nato. Negli ultimi 15 anni c'è stata una simulazione di attacco nucleare su Stoccolma nel 2013, se non mi sbaglio. Questi sono alcuni, senza considerare poi i vari usi di armi chimiche per uccidere oppositori politici. Adesso che tutto questo venga derubricato, io capisco le esigenze della signora, però lascio un po' perplessi. Allora, rapida replica, Nadana Friedrichson. Sì, vorrei dire, mi date i fatti dell'utilizzo da parte della Russia delle armi chimiche, dove ci sono le testimonianze, le prove. Lo stai dicendo in modo abbastanza leggero. Per quanto riguarda il 2006, perché voi non fate l'esempio della Georgia che aveva provocato nel 2006? Perché voi non fate l'esempio dell'aggressione della parte georgiana contro la Svezia del Sud? Di questo voi non sta parlando. Non fate l'esempio di come la CNN staccava dalla televisione la donna con un bambino, che spiegava chi attaccava loro, chi bombardava loro. Fatemi i fatti di quando la Russia aveva utilizzato le armi chimiche. Stefano Feltri, tu che cosa dici? Oggi i ministri della difesa dell'Alleanza Occidentale, riuniti appunto a Rammstein, la più grande base nata che abbiamo in Europa, hanno annunciato l'invio di nuove armi, anche pesanti all'Ucraina. Dove ci sta portando questa escalation, sia di armi che di toni bellicosi e minacciosi? Noi abbiamo titolato sulla prima pagina di domani che questa adesso è davvero la nostra guerra e che la Nato sta diventando l'arsenale dell'Ucraina. Siamo partiti da una situazione in cui alcuni paesi d'Europa, Germania e Francia, erano sostanzialmente disposti a sacrificare l'integrità territoriale dell'Ucraina per quieto vivere e stiamo arrivando a una situazione in cui la Nato sta trasformando l'Ucraina nel Vietnam della Russia, cioè in un conflitto regionale combattuto per procura in cui la posta in gioco è la sopravvivenza del regime di Vladimir Putin. Questo mi sembra ormai chiaro. La cosa che devo dire a me preoccupa molto, da giornalista, osservatore, ma anche soprattutto da cittadino coinvolto, è che ormai il piano militare sembra l'unico su cui si vedono scelte nette e progressi. Quello delle sanzioni si è molto arenato e quello della diplomazia dei negoziati sembra fermo a quei primi tentativi in Turchia con Erdogan e pochissimo altro. Questa è una scommessa. La scommessa è che Putin, come diceva prima Gilli, parla tanto ma combina poco e che già da tempo gli ucraini resistono con armi della Nato e che quindi tanto vale a questo punto fare l'escalation. Questa è un po' una scommessa, speriamo che sia una scommessa giusta. Allora, Antonio Padellaro, Putin parla tanto e combina poco e naturalmente le ripercussioni sul nostro paese sono tante e diverse. Adesso l'ultima sul piano politico è il leader del Movimento 5 Stelle Conte che ha detto che i 5 Stelle sono d'accordo a mandare delle armi difensive all'Ucraina ma non delle armi che servano a delle controoffensive. Anche se credo sia un po' difficile da distinguere anche se so che c'è una divisione netta, chiara da un punto di vista militare. Il governo dovrà riferire in Parlamento e secondo te è uno smarcamento netto di Conte dei 5 Stelle dal governo Draghi e può essere messo in difficoltà il governo su questa questione? Perché sabato forse Draghi andrà a Kiev però insomma il Parlamento dovrà riferire. Assolutamente, doveva riferire anche prima se non l'avesse bloccato il Covid perché dopo 62 giorni il contesto iniziale come osservava anche prima Stefano Felti è completamente cambiato e l'intervento in sostegno dell'Ucraina è stato deciso per dare la possibilità al governo di Kiev di sostenere l'aggressione da parte di Putin e di reagire militarmente. Oggi noi siamo su un campo completamente diverso cioè questa guerra di sostegno, questo appoggio è diventato un'altra cosa è diventato appunto il possibile Vietnam della Nato ma abbiamo anche delle dichiarazioni molto chiare da parte americana perché il segretario alla difesa, Lloyd Austin, ha dichiarato che l'obiettivo dell'America è quello di indebolire la capacità militare russa in modo che non ci provino più a fare altre guerre. Ora, tutto questo può essere legittimo ma è la guerra alla quale abbiamo aderito all'inizio 62 giorni fa o è cambiato completamente il contesto? Io credo che sia interesse del governo non solo riferire ma chiedere un appoggio su una politica che dica anche qual è l'obiettivo dell'Italia perché non si capisce a questo punto ovviamente l'obiettivo dell'Italia dentro l'Unione Europea dove voglia andare a parare questa strategia. Chiudo dicendo che è anche giusto parlare in Parlamento per parlare al Paese perché da 60 giorni i cittadini italiani assistono sbigottiti e in silenzio a una escalation che certamente preoccupa perché le frasi che vengono dette, l'ultima quella di Boris Johnson che addirittura ipotizza il bombardamento nato di città russe crea un contesto completamente diverso. Siamo lontanissimi da quella che è stata l'inizio della storia. Siamo lontanissimi, dottor Gilli, quando dice che potrebbe essere un possibile Vietnam della Nato. Ha ragione Antonio Padellaro. E se lei dovesse descrivere l'obiettivo dell'Italia in questa vicenda bellica? Io penso che Putin ha lanciato una guerra alla sicurezza europea che è di escalation dal 2007, pian piano ha attaccato paesi differenti in maniera differente, le guerre ibride, il cyber eccetera e poi c'è stata questa escalation che è arrivata in quest'anno e faccio una nota importante. A dicembre, quando Putin ha mandato queste richieste alla Nato e agli Stati Uniti minacciava la guerra contro l'Ucraina in cambio di una rivisitazione completa dell'architettura europea della sicurezza. Quindi è una guerra all'Europa, al nostro modo di vivere. Questa secondo me è una cosa importante. Ed è ovvio che poiché Putin ha lanciato questa guerra la nostra sicurezza, mi sembra, dipenda anche non solo dalla volontà ma dalle capacità della Russia di Putin di continuare questa guerra. Quindi le dichiarazioni del segretario della difesa americana mi sembrano quantomeno comprensibili. Ho capito, ma noi dobbiamo accettarle o no? Il problema italiano è se di fronte a queste dichiarazioni l'invio di armi rientra nel contesto iniziale o rientra nel contesto di cui lei sta parlando. Ma è il nostro interesse indebolire la Russia? È questo lo scopo dell'invio delle armi da parte dell'Italia? Io credo di no. La domanda, secondo me, è qual è l'alternativa a una Russia che altrimenti, se si fosse presa all'Ucraina avrebbe poi probabilmente iniziato a minacciare tutti gli altri paesi. Però io sono d'accordo sul fatto che la forza della nostra democrazia sia a dibattere anche in Parlamento. Scusa, sono assolutamente d'accordo. Posso dire una cosa? Seltri? No, stiamo in questa situazione simile a facendo gli stessi errori mentali rispetto a quella del Covid. Cioè sottovalutiamo quelli che gli economisti chiamano rischi di taglia. Cioè eventi molto improbabili, ma molto gravi e molto dannosi. Non abbiamo capito che c'era una pandemia. Adesso noi stiamo scommettendo che la probabilità di un esito molto drammatico di questa situazione sia così bassa da essere zero. Cioè Putin ha detto che l'arsenale nucleare sappiamo che ci può essere un escalation sappiamo che ci può essere un coinvolgimento della Nato tutti pensano che queste cose siano molto improbabili ma la probabilità non è zero. Quindi la cosa che io chiederei a Gilli e anche a Nadana Friedrichson che probabilità stimano del fatto che le cose possono andare male partendo dal fatto che adesso sono pessime ma possono essere molto peggiori. Nadana Friedrichson. Sì, grazie per la parola. Per quanto riguarda Gilli che la Russia aveva cominciato la guerra la Russia non ha cominciato la guerra. Vi ricordo che tutto è cominciato con le provocazioni in Maidan e vi ricordo che la parte americana aveva dato il sostegno al Maidan in Ucraina e colpe in Ucraina. Dopodiché in Ucraina ha cominciato la guerra civile. Da parte del regime di Kiev ci furono gli istruttori della Nato. Cioè il regime della Nato di Kiev aveva condotto la guerra contro i suoi cittadini. Io ero nel Donbass come un reporter. Ho visto lì le milizie, le milizie, le persone che non hanno mai toccato le armi fino al 2014. Contro queste persone il regime di Kiev ha cominciato la guerra. Che cosa facevano gli istruttori della Nato? Anche loro facevano parte dei bombardamenti dei civili nel Donbass. Questo è importante. Nadana, posso solo interromperti un attimo. È un dato di fatto oggi che i russi non vengono accolti con rose e fiori in Ucraina. Quindi, se anche questa è la versione del Cremlino, la versione di come è andata con la rivolta di Piazza Maidana a Kiev, quello che tu chiami golpe, che i russi chiamano golpe, ma veniamo a oggi. Oggi la realtà sul terreno è che gli ucraini, nella loro stragrande maggioranza, non vogliono i russi sul loro territorio. e vorrei che tu rispondessi alla domanda che ha fatto anche Stefano Feltri. Se non temi che ci sia un allargamento di questo conflitto fuori dai confini dell'Ucraina. I russi non hanno paura di questo allargamento della guerra? Prima di tutto ricordo che Vittoria Nulla è venuta a Kiev durante il Maidan, essendo rappresentante ufficiale degli Stati Uniti e dava il sostegno a quelli che protestavano. Questo fu un intervento diretto in ciò che succedeva in Ucraina. Questo non possiamo scordarlo. Per quanto riguarda l'invio delle armi al regime di Kiev, gli americani che lo fanno adesso lì, lei personalmente ha visto cosa significa quando gli americani danno il loro sostegno al paese e in altri paesi. Lei è stata in Baghdad, in Iraq. Lei sa che cosa questo ha portato. Adesso nessuno vuole giustificare. Saddam Hussein aveva fatto molte cose brutte. Non fu un santo, ma lei personalmente ha visto a che cosa questo ha portato. E lei sa che Iraq fino adesso non può diventare un paese sovrano. È questo che aspettano anche le ucraine da parte della NATO. Io capisco che un conflitto militare in Ucraina a lungo termine e questo ci porterà. Io chiedo a voi, agli europei, voi a che cosa volete questo conflitto militare a lungo andare. Zeliansky dice che è pronto a combattere per dieci anni, ma lui non sta combattendo. Lui utilizza i propri cittadini. C'era Antonio Padellaro. Volevo chiedere questo. Tutte le ragioni politiche e militari possono essere motivate. Vorrei però capire cosa pensa la collega. No, vorrei finire perché su questo è importante. Volevo capire cosa pensa la collega delle centinaia di bambini che sono morti per effetto di questa reazione da parte, quella che lei chiama una reazione da parte di Putin. Cioè, questo sacrificio umano è accettabile ai suoi occhi? Io non considero che la morte dei civili è accettabile. Perché voi non avete posto queste domande a Kiev quando morivano i cittadini del Donbass, i civili? Vorrei portarvi a Donetsk, nell'allea delle Angeli, dove sono morti i bambini. Sono stati sepolti lì come risultato dei bambini morti bombardati dalle uccine. Non è una partita quanti bambini sono stati uccisi. Stiamo parlando di questa guerra. Non stiamo parlando delle guerre mondiali del passato. Lei deve... Le sto facendo una domanda, se vuole rispondere su questa guerra, non sul passato. Per voi sono guerre del passato? Questo mi sorprende. L'operazione speciale militare russa deve finire, porre fine alla guerra che è cominciata nel 2014 con la partecipazione attiva degli Stati Uniti. Non dobbiamo dividere queste cose perché sono le cose non giuste. Andrea Gilli, fatemi l'esempio quando la Russia aveva utilizzato le armi chimiche. voi avete utilizzato questa possibilità di parlare in questo programma adesso. Quindi, ditemi, fatemi questi esempi. Dottor Gilli? No, parlo dei vari attentati che sono stati fatti tra gli altri in Inghilterra ampiamente documentati. Mi colpiva un po' questo modo di rispondere. Sembrava che avesse un nastro e non so se stesse rispondendo alla nostra domanda a quella di un'altra trasmissione obiettivamente. Rispondo però a Stefano Feltri. E' ovvio che c'è un rischio ed è importante della ragione per cui i leader europei tutti stanno prendendo molto seriamente questa situazione che non sta venendo sottovalutata. Però la guerra la sta lanciando la Russia. Il modo più semplice per terminare il rischio di escalation è facile che la Russia smetta, si ritiri, torna a casa e lascia gli ucraini al loro destino. Ecco, e a questo proposito Stefano Feltri e poi vorrei sentire anche Nadana e Padellaro. Oggi Putin ha detto al segretario generale dell'ONU Guterres che è stato ricevuto dal presidente russo che la Russia spera in una soluzione del negoziato ma senza un accordo su Crimea e Donbass non è possibile firmare. Allora, ci può essere un negoziato serio Stefano se la Russia non è disposta a ritirarsi da almeno alcuni dei territori occupati militarmente? Temo che la risposta sia sì cioè nel senso che probabilmente ci può essere un negoziato anche a quelle condizioni cioè anche con una divisione dell'Ucraina. Il problema è che finora Putin non sembra avere espresso interesse neanche per questo. Perfino Zelensky in alcuni momenti ha detto che era disposto a aprire una discussione non si è avuta da parte russa nessuna indicazione di quale sia l'obiettivo l'obiettivo concreto percorribile di medio periodo per fermare le ostilità nel senso che da parte russa c'è stato prima un tentativo di rovesciare il governo Zelensky ma il messaggio che Putin continua a dare è quello di denazificare l'Ucraina e poiché Putin sembra trattare tutti gli ucraini che non stanno con lui come nazisti questo è ciò che legittima le prime accuse che sono state mosse addirittura di un intento genocida quindi non è chiaro se noi stiamo osservando un'operazione che ha una finalità anche concreta realistica o per collegarsi a quello che diceva Gilli semplicemente l'escalation complessiva di un percorso che ha iniziato con il discorso alla conferenza di Monaco di Putin nel 2007 e non si è mai fermato chissà dove si fermerà Nadana Friedrichson ecco ma che negoziato è se il crendino non intende discutere dei territori occupati militarmente e se si vuole almeno un cessato il fuoco bisogna essere chiari no? prima di tutto Andrea Cilio Teresa May nel 2018 diceva che una probabilità che fu la Russia non è una prova e lei non ha portato nessun'altra prova e quindi la prego di non parlare e dire i fake che la Russia aveva fatto lei non mi ha dato dei fatti per quanto riguarda gli obiettivi della Russia la Russia ne ha già parlato e continua a parlarne la cosa più importante per noi è la sicurezza delle persone nel Donbass dei nostri cittadini nella Crimea in Denner e l'Ener ci sono anche cittadini russi ve lo posso ricordare io sono stata personalmente in una in alcune città in Marinka io capivo da dove Machev Donets e Sennavate sono stati colpiti da parte dell'Ukraine io spero che anche i vostri colleghi potete andare lì e capirlo l'obiettivo della Russia è la sicurezza di queste persone quindi la questione della Crimea dei NER e l'NR sicurezza delle persone nel Donbass sono importanti Volevo dire che è vero Putin non è chiaro su cosa vuole ma anche Zelensky non ha ancora chiarito qual è il suo punto di caduta di arrivo e io la speranza è che la missione del Premier Mario Draghi a Kiev nei prossimi giorni ecco faccia uscire Zelensky da questo silenzio cioè che cosa può appoggiare l'Europa che Zelensky voglia cioè qual è la richiesta da parte dell'Ucraina cosa sono disposti a concedere e se non sono disposti a concedere nulla lo dicano perché questo serve anche all'Unione Europea per misurare il proprio intervento Stefano Feltri volevo ricordare una cosa interessante tu hai partecipato a una una trasmissione un talk show di Nadana Friedrichson sul canale Russia Today che è un canale televisivo come è andato e la televisione russa come sta raccontando l'evoluzione di questa guerra te lo chiedo perché l'invito è arrivato dopo la trasmissione dopo che entrambi eravate stati ospiti qui da me sì sì io ho accettato la sfida di Nadana che diceva vieni e qui vedrai che si può dire tutto io ho detto tutto in italiano poi spero che abbiano tradotto in russo le stesse cose e no la cosa che ha trovato interessante è che Nadana mi ha fatto praticamente un interrogatorio su tutto quello che io sapevo degli accordi di Minsk o dei presunti crimini ucraini nelle aree filorusse ma quello che è interessante adesso al di là degli aneddoti personali è che i russi hanno questo approccio in cui raccontano singoli episodi anche drammatici anche violenti alcuni contestati nelle ricostruzioni internazionali il punto è che sono le stesse cose di cui sono accusati loro adesso cioè se considerano intollerabile che possano morire delle persone in Ucraina solo perché sono diciamo del ceppo sbagliato o della minoranza sbagliata non si capisce come possano legittimare la loro operazione adesso lì è dove crolla la narrazione russa che vede la Russia come vittima di un enorme complotto mondiale che è attenta alla sua sopravvivenza io sono andato a parlare in questo show anche per far capire che noi non abbiamo niente contro i russi non c'è un grande complotto contro la Russia abbiamo molto contro questa guerra e molto contro questa aggressione criminale allora Dana Friedrichson rapida replica ho l'impressione che eravamo in due trasmissioni diverse con Stefano prima di tutto gli accordi di Minsk come lei sa e come voi sapete colleghi è una questione di principio che fermava portava il cessato di fuoco e portava al fatto che doveva fermarsi però non è stato così quindi questa è stata la nostra risposta anche alla violazione da parte degli accordi di Kiev da parte dell'Ucraina e poi Stefano non sapeva che la Russia era il garante di questi accordi di Minsk non partecipanti e sono contenta che nella trasmissione lo ha saputo per quanto riguarda le garanze di sicurezza di persone questo è importante questo aspettiamo da parte dell'Ucraina oggi poi Stefano aveva anche preso parte in un'altra mia trasmissione nella Svezda di questo Stefano non ha parlato e lì ci fu una traduzione simultanea io a Stefano ho fatto vedere i video da Odessa 2014 perché ho saputo che Stefano non sapeva di questa tragedia quando commentava la situazione in Ucraina li avevo fatto vedere i video fatti da parte dell'Ucraina come i militari russi presi in ostaggi sono stati maltrattati e io sono sicura che come giornalista se commentate un tema è importante capire i fatti perché Stefano cominciava e diceva noi non capiamo del perché la Russia aveva cominciato questa operazione speciale adesso abbiamo chiarito tutto Nadana allora ricordo che l'altra trasmissione alla quale ha partecipato Stefano Feltri è un canale televisivo che è di proprietà che è controllato dal Ministero della Difesa russo allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché intanto il governo deve prendere decisioni importanti non solo sull'invio di nuove armi all'Ucraina ma anche sulla pandemia che ci siamo dimenticati che la pandemia non se n'è andata guardate in settimana è attesa la decisione del governo sulle nuove norme anti-covid che saranno in vigore nel mese di maggio stando al sondaggio Demopolis la decisione di porre fine all'obbligo di mostrare il Green Pass con la sola eccezione relativa agli ingressi nelle strutture sanitarie è condivisa da quasi due cittadini su tre di parere differente appena il 23% ma molto più prudenti sono gli italiani per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine in alcune situazioni al chiuso ad esempio il 63% è d'accordo con il ministro della cultura Franceschini che suggerisce di continuare a indossare la mascherina nei cinema e nei teatri al chiuso in presenza di una diffusione del virus ancora estesa due italiani su tre intervistati dall'istituto diretto da Pietrovento condividono anche la scelta del governo di mantenere sino ai primi giorni di giugno l'obbligo delle mascherine nelle aule scolastiche il ministro Speranza e il ministero della salute stanno analizzando i rischi legati ad alcuni luoghi particolari per decidere se mantenere o eliminare l'uso obbligatorio della mascherina per l'85% degli intervistati l'obbligo andrebbe mantenuto negli ospedali per 7 italiani su 10 la mascherina andrebbe ancora tenuta su treni aerei e navi per il 67% anche su bus tram e metro più bassa anche se maggioritaria la percentuale di quanti prudentemente continuerebbero ad utilizzarlo nei supermercati del tutto diversa appare invece l'opinione su bar e ristoranti in questo caso il 58% degli italiani propende per un'eliminazione dell'obbligo anche al chiuso è interessante notare come sull'uso della mascherina su treni aerei e mezzi di trasporto ci sia un accordo trasversale dice sì il 92% di chi vota PD circa l'80% degli elettori del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia ma il dato supera il 50% anche tra chi vota Lega e Fratelli d'Italia e siamo in chiusura grazie Nadana Fridrickson grazie Stefano Feltri ricordo che venerdì prossimo esce il tuo nuovo scenario dal titolo La guerra mondiale del cibo perché questa sta già diventando un'emergenza serissima grazie Andrea Gili grazie Antonio Padellaro grazie spettatrici spettatori in linea a Giovanni Floris al suo di martedì quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci